Cioè dico io, c'è una mutanda giallù, mi fanno scusi signore, lui ti alza, e lì fa perplesso, ma è solo una mutanda, ma se il vero sapere è sapere di non sapere, nessuno sa che questa è una mutanda, perché non vai? Vai, vai, non ti preoccupare, è uno con un costume, vai, da navigare, è un costume da navigare. Adesso, vambi da arrivare, perché sono proprio... Ciao Ale!